Noemi Bocchi, la compagna dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, sta affrontando un periodo di profondo dolore a causa di un lutto significativo. La triste notizia è stata condivisa sui social attraverso un messaggio toccante inserito nelle storie Instagram, sul quale emerge chiaramente il peso emotivo di questo momento difficile. Sono morte insieme a te, sono le parole che trasmettono il suo immenso dolore accompagnate da un cuore nero. Attualmente non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla persona cara che è venuta a mancare nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Leggo, sembra che il messaggio sia dedicato a un'amica scomparsa. Noemi Bocchi e Francesco Totti vivono insieme da oltre un anno dimostrando una serenità che persiste nonostante la complicata situazione legale che li vede coinvolti in tribunale per la separazione di Totti dalla sua ex moglie Ilari Blasi. Recentemente la coppia ha condiviso pubblicamente il loro amore postando immagini romantiche dei festeggiamenti di San Valentino. Grazie per la visione!